...è scoppiata una polemica durante la processione di San Castello per il corteo fermo a pregare davanti alla casa di un boss. Pomo della discordia è una delle soste di preghiera durante la processione del santo patrono di Castellammare di Stabia, quando la statua di San Castello viene posata davanti alla casa di un noto camorrista. Pochissimi minuti, ma dal grave valore simbolico per il sindaco stabbiese, l'ex magistrato antimafia Luigi Bobbio, in aperto contrasto con i portatori della statua, ma anche con l'arcivescovo di Sorrento Castellammare, come mostra questo video diffuso da Stabia Channel. Noi ci fermiamo per il santo, così che... Eminenza, lei lo sa come viene letta questa cosa? Lei lo sa come viene letta e come si rafforza il ruolo di quel personaggio? La camorra vive di questo, Eminenza, se lo lasci dire, la camorra vive di questi sicuri. Per Monsignor Felice Cece, dietro quel rituale decennale, c'è solo l'atto di venerazione di una chiesa, che si trova a pochi metri dall'abitazione del boss della camorra. Una chiesa chiusa tutto l'anno, ha polemizzato il primo cittadino che a gennaio era riuscito ad evitare la discussa tappa. Come a me non mi costa niente, e con me non vengo a papà da nessuno, io lo faccio di cuore. E lo camminiamo, e lo faccio l'odore, e lo faccio in un battifreddo, camminiamo e proseguiamo. I portatori della statua questa volta non hanno proseguito, e così San Catello si è di nuovo trovato di fronte alla casa del camorrista. Il sindaco ha ritirato il gonfalone e l'intera vicenda finirà ora al baglio di prefettura e procura, ma chissà cosa ne pensa il santo patrono.